In Canto Liberty, seconda edizione della Kermesse Questre con le sfilate di carrozze e cavalli per il centro storico di Montecatini Terme e l'Ippodromo di Sesano. Quattro giorni di eventi in cui il cavallo è il protagonista indiscusso, un'organizzazione dettagliata che anche quest'anno non ha potuto e non ha voluto tralasciare il benessere e la sicurezza dei cavalli partecipanti. Sicurezza garantita grazie ai volontari dell'Ors Ambulance Group, uno staff di uomini e donne coordinati dall'associazione Progetto Veterinario guidata dal dottor Sandro Centinaio che da anni mette a disposizione le proprie competenze veterinarie per assicurare un pronto intervento medico a tutti i cavalli impegnati in manifestazioni sportive e culturali. Bisogna tener conto che il soggetto sportivo può incorrere in incidenti e così via e bisogna essere pronti a intervenire con professionalità e con dei protocolli ben determinati onde evitare il più possibile che si abbiano danni al nostro compagno di viaggio che può essere il cavallo atleta o anche il cavallo che serve semplicemente per una manifestazione di un qualsiasi tipo di carattere. Questo cosa significa? Che nel momento che succede l'imprevisto occorrono squadre ben addestrate con mezzi adeguati, ovvero i trailer ambulanza o in determinati casi anche la clinica mobile che è un camion perfettamente attrezzato per il pronto intervento, in loco, di qualsiasi tipo. e comunque un continuo e costante aggiornamento sia delle procedure sia anche un miglioramento della professionalità dei componenti sia veterinari sia non che sono l'anima di Ors Ambulance.